Ehi, ciao Gesù in accappatoio! Oh, ciao Mattia, è un piacere vederti. Cavolo, è da un casino che non ti vedo! Ah, aspetta ti devo far vedere una cosa fighissima. È la limited edition di lezioni di piano! Oh. Che invidia! Che invidia! Che invidia! Che invidia! Grazie a tutti. Grazie a tutti.